Leonardo Silva Reviso 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 Re delle onde, delle perturbazioni nel tessuto stesso dello spazio e del tempo, delle onde di gravità. Nel settembre 2015, queste onde, che hanno attraversato l'universo per un miliardo di anni, sono state registrate qui sulla Terra da due strumenti che fanno parte di un unico esperimento, l'Aigo, negli Stati Uniti. E poi sono state registrate ancora da altri eventi cosmici, anche da altri strumenti, recentemente anche da uno strumento italiano, Virgo, vicino Pisa. Questa scoperta, che era stata predetta da Albert Einstein cento anni fa, è una scoperta che ci apre un mondo nuovo, un universo, tutto da scoprire, ed è per questo che ha avuto il premio Nobel per la fisica quest'anno. Questa è una di quelle scoperte che ci avvicinano a quello che non conosciamo. Quello che non conosciamo è molto più importante di quello che conosciamo già. E in questa piccola, breve avventura attraverso la scienza insieme a me, vi farò capire perché. Quando avevo sei anni sognavo di fare l'astronoma. Poi però mi interessavano anche altre cose, ad esempio il teatro. Infatti il mio primo ruolo è stato comunque legato all'astronomia, perché facevo la stella cometa in uno spettacolo natalizio. La mia carriera ha preso altre strade e alla fine però sono finita nel posto giusto, per vivere in diretta l'avventura della scienza e per coltivare ancora la mia passione per la scienza, al CERN a Ginevra, per fare l'assistente personale del direttore generale dell'epoca, un premio Nobel per la fisica italiano. Oggi la scienza non la faccio, non sono una ricercatrice, ma la racconto, la racconto a tutti, sono una comunicatrice scientifica e la racconto come un'avventura, documentandola non solo dal CERN, che è comunque la mia base, ma anche da posti molto estremi come l'Antartide, che vedete in questa fotografia, qui sono con una colonia di pinguini di Adelì, oppure l'Artico, basi spaziali e anche da deserti aridissimi e altissimi, questo è il deserto di Atacama sulle Ande Cilene, dove esiste un osservatorio astronomico fantastico, ALMA, 60 antenne che fanno radioastronomia e vedono segnali che arrivano da un universo lontanissimo, sono segnali submillimetrici dello spettro elettromagnetico, noi con i nostri occhi vediamo una piccolissima parte, i telescopi riescono a vedere dai raggi gamma, che sono molto potenti, fino alle onde più deboli, ecco ALMA è il primo e unico strumento che vede queste onde submillimetriche che ci portano segnali da un universo lontanissimo e che ci aprono ancora un'altra finestra su quello che non conosciamo. Ma torniamo al CERN, alla mia base, il più grande laboratorio scientifico al mondo, qui si studia la scienza più fondamentale di tutte, la fisica delle particelle elementari, quella che ci dice di cosa è fatto all'estremo tutto quello che esiste, dalle nostre cellule, dall'area che respiriamo, questo palco, i pianeti, lo spazio interstellare tra noi e le altre stelle, e tutto l'universo si studia a livello più piccolo della materia e le forze che lo tengono insieme. Il CERN è stato creato nel 54 da 12 stati membri europei per far riguadagnare all'Europa il primato in fisica che aveva perso con la guerra mondiale, ma anche per incoraggiare una collaborazione pacifica fra i popoli. Ed oggi la conquista più grande del CERN è proprio quella di essere una cittadella globale della scienza dove si lavora pacificamente, è una specie di prototipo di un mondo ideale, un mondo dove ci sono oltre 17.000 persone che arrivano da tutto il mondo, da tutti i continenti, anche da continenti in guerra fra di loro, e sono soprattutto giovani, l'età media 27 anni, sono ricercatori in fase di dottorato o post-doc, vengono da paesi appunto che non riconoscono all'altro neanche il diritto di esistere, alcuni di loro, eppure lavorano insieme pacificamente. Lavorano perché sono animati dalla stessa passione per la scienza, da un valore universale che trascende qualsiasi differenza politica di credo, di etnia, eccetera. Che cosa vengono a fare al CERN? Adesso facciamo un'altra piccola parentesi scientifica. Vengono perché qui trovano gli strumenti che gli servono, quelli più potenti, più grandi, per fare la loro ricerca. Questa è un'immagine satellitare della zona franco-svizzera attorno a Ginevra, riconosciamo il lago Lemano, la pista dell'aeroporto di Ginevra, e quel cerchio grande rosso è l'ultimo dei grandi acceleratori di particelle elementari, che sono gli strumenti che questi ragazzi usano per capire di cos'è fatto il tutto. Guardiamolo più da vicino. Questo è LHC, nella stessa zona che si vedeva prima da satellite, riconosciamo sempre comunque il lago, la pista dell'aeroporto. Abbiamo capito che è uno strumento enorme, 27 chilometri di circonferenza, sottoterra a 100 metri. Nella zoomata, vediamo com'è fatto, sono 27 chilometri di magneti superconduttori, fatti di materiali nuovi, inventati, non si compra da nessuna parte un LHC, si fa con le menti di tutti, messi assieme, e ha prestazioni da capogiro. Basta dirvi che è contemporaneamente il posto più caldo, il posto più freddo della nostra galazia. Più caldo perché al suo interno circolano fasci di protoni, li vediamo qua, nei loro tubi a vuoto, che quando vengono in collisione fra di loro raggiungono una temperatura 100.000 più volte calda di quella del Sole. Ma per funzionare questi magneti superconduttori sono raffreddati a meno 275 gradi Celsius e quindi una temperatura così, più fredda di così, non c'è nel sistema solare. Queste collisioni poi sono lette, questi fasci circolano paralleli, vengono fatti collidere in quattro punti. Sono collisioni che sono lette da altri strumenti, altri strumenti che sono altrettante squadre di giovani fisici che li pensano, li progettano, li costruiscono e poi li fanno funzionare. 3.000 fisici in CMS, 4.000 in ATLAS, sono due grossi esperimenti attorno ai punti di collisione di LHC, che leggono 40 milioni di collisioni al secondo per vedere cosa è successo nella collisione. Sono enormi, qui vediamo un essere umano di taglia normale e un altro al centro del rivelatore ATLAS mentre era in costruzione. Sono cinque piani di elettronica super sofisticata, innovatrice, completamente fatta in laboratorio da queste grandi squadre, soprattutto giovani, che servono a vedere cosa. Allora, molti pensano che quando i protoni collidono fra di loro si rompono e vediamo cosa c'è dentro. No, non è questo che si fa negli acceleratori di particelle, in particolare nei collider. Quello che si fa è, si lanciano questi fasci di protoni a un'energia altissima, alla velocità della luce. Quello che succede, questi protoni non sono più protoni quando sono in questa condizione, sono energia pura. Per cui sono scontri di energia in un punto molto piccolo, molto denso, come il tubo a vuoto di LHC, e quello che succede quando questa energia si scontra con un'altra energia, succede quello che aveva previsto Einstein, è uguale a mc quadro, che l'energia si trasforma in materia. Questo vuol dire la formula più famosa della scienza, che se concentriamo tantissima energia in un punto piccolissimo, densissimo, completamente vuoto, questa energia dà vita a materia. Questo è successo nel momento del Big Bang, è così che è nato l'universo, per questo Einstein è tanto famoso, lo chiamano l'ingegnere dell'universo, perché ha capito com'è nato l'universo dal Big Bang. Quindi se vogliamo, in LHC vediamo stelle sottoterra, vediamo l'universo al suo inizio, un universo molto giovane, quanto giovane? Non proprio all'inizio, ma un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Qui è arrivato finora l'LHC. E telescopi e acceleratori di particelle alla fine si complementano nel loro lavoro, e abbiamo capito che l'universo ha 13,7 miliardi di anni, abbiamo capito tutte le sue fasi, l'LHC è l'unico collader in grado di studiare la fase primordiale dell'universo. Perché? Perché i telescopi, anche se possono vedere tutto lo spettro elettromagnetico, comunque hanno bisogno di luce. La luce altro non è che fotoni. Io vedo voi e voi vedete me, perché i fotoni che voi emanate, o che emano io, arrivano alla nostra retina e creano l'immagine del cervello che vediamo. I telescopi sono solo degli occhi molto più potenti, hanno un range molto grande, ma comunque sono limitati dalla luce. E la luce non è nata subito nell'universo. La luce è nata quando l'universo aveva 380 mila anni. Direte, un universo di 13,7 miliardi di anni, 380 mila è un universo bambino. Sì, però, come quando si concepisce un bambino, è importantissimo capire il concepimento dell'universo. Perché quando si concepisce un bambino, è lì che si forma e si decide il suo DNA, e quindi tutto quello che lui sarà. E nell'universo primordiale si decidono i mattoni fondamentali, gli atomi, i nuclei che poi faranno le stelle, e i nuclei che poi faranno il carbonio e il ferro, e quindi la vita. Quindi è importantissimo capire tutto. Ma abbiamo detto che i telescopi e gli acceleratori di particelle hanno capito tante cose, ma hanno capito tutto? In realtà, no. Quello che non sappiamo, nonostante tutti questi sforzi e questi strumenti, è molto di più di quello che sappiamo. E la dimostrazione ci è arrivata, negli ultimi anni, sempre dall'astronomia. Questa è un'immagine presa dal Very Large Telescope, uno dei grandi telescopi nel deserto di Atacama, in Cile, come Alma, non lontano d'Alma. Ed è l'immagine di orbite di stelle all'interno di galassie che vanno molto più veloce di quanto la fisica ci direbbe che devono andare. Perché? Perché non c'è una massa sufficiente visibile che giustifichi questa velocità. E allora, una delle conclusioni, questo succedeva circa dieci anni fa, all'inizio si andava un po' a spanne, è che deve esserci una massa oscura che non emana. Non la vediamo, ma c'è, perché ne vediamo gli effetti gravitazionali. Bene. Hubble ha visto la stessa cosa. Ha visto altre anomalie gravitazionali attorno a degli ammassi di galassie. Queste sono delle stelle la cui traiettoria è completamente deviata, sono deformate. Anche lì, la massa che si vede non giustifica questa deformazione. E quindi, telescopio dopo telescopio, dalla Terra, dallo spazio, hanno tutti visto queste grandi deformazioni. Uno dei telescopi che le ha viste, lo citavo prima, è il Very Large Telescope. Questa è una foto presa dal drone, dal mio compagno, con cui vado a fare queste avventure in giro per il mondo, a caccia di scienza. E questa invece è un'altra immagine. quindi sono misure precisissime. Indirette, sì, perché non vediamo direttamente questa materia, perché non emana nulla, ma sono misure così precise da farne una mappa. Sappiamo dov'è questa materia oscura nel cielo, nell'universo. E sappiamo tutti gli effetti gravitazionali che ha. Questa mappa, in particolare, è molto potente, è molto recente. Ha misurato effetti gravitazionali anomali su 26 milioni di galassie. Quindi la materia oscura, la materia che c'è ma non si vede, è una dei tanti confini del mondo che non conosciamo. E il problema è uno, è un problema grosso, è che di materia oscura ce n'è molta di più di materia ordinaria. Quella ordinaria che ci fa a noi è pochissima rispetto a tutta la materia dell'universo. Solo il 4%. Quindi noi sappiamo solo il 4% di quello che c'è. Il 26% dovrebbe essere materia oscura. Il resto, energia oscura, è un altro grande enigma di cui meglio non parlare. Per cui, la vera risposta alla domanda perché è importante quello che non sappiamo? Non è soltanto perché studiando quello che non sappiamo costruiamo strumenti strepitosi che ci portano il World Wide Web che è stato inventato al CERN, che ci portano la risonanza magnetica nucleare, la PET, che ci portano i telefonini e tutta la comunicazione moderna che non esisterebbe senza i transistor e il transistor non esisterebbe senza le leggi di Maxwell. E così la relatività, senza la relatività, non potremmo mai utilizzare il GPS senza le correzioni per la relatività instaniana. È importante perché ci dà tecnologia? Ma non per tutti. È importante perché sapere solo il 4%, forse è un po' frustrante per noi esseri intelligenti, ma forse c'è anche chi si accontenta di sapere che quello che il 4% è fatto di atomi e il resto boh. No, il valore vero che ho imparato da questa avventura con la scienza è la lezione che ci danno tutti questi giovani che lavorano insieme in campi così difficili che immaginano e costruiscono strumenti complessissimi, li mettono 100 metri sotto terra, 5.000 metri di quota sul livello del mare in Atacama, in Antartide, poi fanno dei modelli complessissimi, analizzano petabyte di dati, fanno previsioni precisissime sulla base di quello che vendono. Giovani che vengono da tutti i paesi del mondo. questa è la collaborazione CMS ad esempio, lavorano in, non in competizione, c'è anche molta competizione fra un esperimento e l'altro, ma non è vera competizione, è competizione, collaborazione e competizione insieme. È una cosa estremamente sana. Loro sanno valorizzare l'altro, loro hanno bisogno dell'altro, hanno bisogno della persona diversa da loro che ha idee diverse, culture diverse, etnie diverse, perché pensa in modo diverso e soltanto pensare in modo diverso consente a questi giovani di fare dei passi avanti e scrivere altre pagine nel libro della conoscenza. Senza un'idea innovativa non possono andare avanti, sanno benissimo che hanno bisogno l'uno dell'altro. Per questo, dicevo, il Cerno è un modello ideale di pace e di una città ideale, di come dovrebbe essere il mondo. Ho iniziato dicendo che la bambina aveva un sogno che riguardava le stelle e anche oggi ho un sogno che riguarda le stelle. Quello che sogno oggi è che tra il Trigri e le Eufrate nella antica Mesopotamia, oggi Siria, Iraq, Iran, Turchia e così via, si dovrebbero costruire tanti telescopi perché ci sono le condizioni ideali come quelle del deserto di Atacama, almeno geofisicamente sono condizioni ideali, aredità che dà nitidezza delle immagini e poi deserto, quindi non c'è luce e non c'è perturbazione luminosa per questi telescopi. Poi c'è una grandissima tradizione perché l'astronomia occidentale è nata lì con i Sumeri e gli Assiri babilonesi che ci hanno lasciato tantissime conquiste e che ancora oggi sono utilizzate in astronomia. Quindi il mio sogno di bambina è costruire telescopi in posti come Raqqa, Mosul, Kabul, telescopi straordinari che possono non solo restituire a queste terre il loro cielo, quel cielo che gli ha fatto nascere l'astronomia ma soprattutto restituire ai bambini di queste zone un futuro migliore. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.